L'incontro di sumo fra Sykes e il dottor Bavaro è stato interrotto bruscamente Da niente meno che Vittoria Lazzari Che dopo il dissing con l'annessa anche denuncia che c'era stato con Sykes È arrivata lì e l'ha combinata di tutti i colori Non aggiungo altro, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate Noi ci vediamo in un prossimo video in linea allo studio Tu sei uno stitch, sei uno stitch, sei un infame Cosa pensi di fare? Cosa pensi di fare? Cosa pensi di fare? Chiudi la piranga, chiudi la piranga, chiudi la piranga